Con questo breve tutorial impareremo ad effettuare delle piccole manipolazioni sulle immagini. Per lavorare sulle immagini esistono nella rete numerosi software o applicazioni molto semplici da utilizzare. Tuttavia non sempre con le applicazioni riusciamo ad ottenere ciò che desideriamo dalla manipolazione che vogliamo fare sulla foto. Esiste comunque un programma molto avanzato che si chiama Gimp, questa è la sua icona, conosciuto in tutto il mondo della rete ed è un programma estremamente valido ed è anche gratuito che si installa sul proprio pc. Si tratta di un software molto avanzato che richiede, per essere utilizzato al meglio e al meglio delle sue possibilità, un certo periodo di studio e di sperimentazione. Siccome questo tutorial è rivolto essenzialmente ad alunni delle classi quinte, oggi noi invece esploreremo alcuni programmi che sono già presenti all'interno dei sistemi operativi che gli alunni utilizzano nel proprio pc. Innanzitutto ci richiamo ad aprire la cartella in cui abbiamo archiviato le immagini che vogliamo modificare, migliorare in un certo senso. Prima di aprire un'immagine facciamo un brevissimo escursus sui formati nei quali le nostre immagini vengono salvate dai dispositivi che utilizziamo per produrle. Il formato gpg è uno di questi formati, formato gif e formato png, quindi dobbiamo stare attenti quando effettuiamo il processo di salvataggio. Spesso accade che molte immagini vengono salvate in bdf e poi bisogna riconvertirle in immagine per poterle modificare in un certo senso e questo richiede un processo in più, pertanto un dispendio di tempo e energia abbastanza significativo. Apriamo una di queste immagini. Quando noi carichiamo le immagini sul nostro pc, il sistema operativo le apre con un programma che si chiama visualizzatore foto per Windows. Tutti i sistemi operativi hanno un visualizzatore foto, questo si chiama per Windows perché il mio sistema operativo è piuttosto datato ma sicuramente voi ne avrete uno più avanzato e quindi anche più facile da utilizzare. Allora mettiamo il caso, osserviamo questa immagine. Questa immagine è stata scattata, innanzitutto il disegno è posizionato su un supporto, presumo sia una scrivania. Quindi l'immagine riporta anche la base, come vedete. E un altro aspetto che ci colpisce è che questa immagine non è dritta ma presenta un'inclinazione qui nella parte destra. Ora mettiamo il caso che io volessi agire un po' sull'immagine per migliorarla, diciamo, in un certo senso. Qui come vedete ci sono dei comandi che sono di default del visualizzatore. Clicchiamo su Apricon, si apre questa finestra che mi fornisce altri comandi. Utilizziamo il programma Microsoft Office Picture Manager che è di default di questo sistema operativo. Sicuramente si trova anche nei vostri computer. Con la differenza che questo sistema operativo che ho io, la Microsoft, non lo aggiorna più perché ormai lo sviluppo di questo strumento si è fermato nel 2013. Tuttavia funziona ancora per quello che serve a noi e può essere ancora utile. Allora, come vedete, l'immagine è stata aperta su un nuovo supporto. Questa è la nostra dashboard dove abbiamo dei comandi qui nella barra dei menu che ci permettono di fare alcune cose. In primo luogo, l'aspetto, diciamo, la parte più semplice è quella di lasciar fare tutto al sistema operativo. Cliccando su Modifica immagine. Cliccando su Modifica immagine si apre questa finestra di dialogo in cui ci sono diverse possibilità. C'è la possibilità di agire sulla luminosità e il contrasto, sul colore, sul ritaglio. C'è la possibilità di ruotare il disegno nel caso sia stato effettuato l'upload però in modo storto, cioè non secondo il disegno effettuato all'interno del foglio. C'è la possibilità di ridimensionare o di comprimere l'immagine. Per il momento noi cerchiamo di ritagliare questo bel disegno, il quale però presenta... Ecco qui. Nel momento in cui clicchiamo sul ritaglio, compaiono queste maniglie che ci guidano nel ritaglio. Ora, se l'immagine è dritta, il ritaglio è molto semplice. Se invece l'immagine è storta, dovremmo insomma lavorare un po' di fantasia, nel senso che se vogliamo rendere il disegno dritto così, perdiamo una parte della finestra e anche una parte del poster. E insomma, trattandosi di un disegno, non è bello tagliare via le parti che l'alunno ha disegnato. Quindi allora dobbiamo necessariamente stare al di sopra del livello dei disegni per evitare di tagliare dei pezzi importanti. Tuttavia qui non riusciamo a raddrizzarlo e ce ne faremo una ragione a questo punto. Poi possiamo stringere l'immagine, possiamo togliere questa parte che non serve, così. E possiamo agire anche da quest'altro lato, da della sinistra. Ecco, qui può essere più dritto perché non ci sono disegni. Bene, una volta posizionato le maniglie, possiamo cliccare su OK e il disegno è ritagliato. Se il disegno è dritto, ovviamente il ritaglio è molto più semplice. Dopo aver fatto questo, se non vogliamo agire direttamente sulle altre voci, sugli altri comandi che sono qui, su questi, possiamo lasciare che faccia tutto il sistema cliccando su Correzione Automatica. Vi faccio vedere la differenza. Ecco qua, vedete? Il disegno si è illuminato. Bene, una volta che abbiamo deciso che il disegno ci piace, per le modifiche che abbiamo apportato, facciamo Salva con nome e lo salviamo nella nostra cartella, non con lo stesso nome, lo salviamo modificato, così lo ritroviamo subito. Come vedete in basso, qui ci sono delle frecce, se noi clicchiamo su queste frecce, si aprono altri disegni. Ecco, per esempio, questo è un altro disegno, molto scuro, possiamo fare la stessa cosa, vedete? Se clicchiamo su qui, il disegno, come per magia, si illumina. Salviamo, adesso utilizzo un'altra procedura, così. Ecco, anche qui possiamo fare la stessa cosa, ritaglia, tagliamo questo pezzo che è inutile, non possiamo tagliare sotto perché il disegno, i personaggi, sono stati disegnati proprio sulla base, e quindi andremo a tagliare le gambe, però posso agire così, e qui, siccome già il nome del bambino l'ha già stato tagliato, posso tagliarlo un po', clicco su OK, illumino, ecco, decisamente migliorato. Salvo, Perfetto, vediamo se abbiamo qualche altra immagine da poter... Ah, ecco, per esempio, questo è un caso, questa immagine è stata scaricata direttamente da WeSchool, come vedete, non è dritta. Quindi, allora, la prima cosa che facciamo, con queste maniglie, con questi comandi, raddrizziamo. Ecco, nonostante l'abbiamo raddrizzata, però, come vedete, è ancora un po' storta, con questo programma non possiamo agire, però possiamo togliere tutto quello che non c'entra niente con il disegno, che si trova intorno all'immagine fotografata. E così esaltiamo al massimo ciò che l'alunno ha disegnato. Ecco. Perfetto. Illuminiamo. Ecco qui. Può andare. Salviamo. Vediamo se troviamo un'altra immagine. Ecco, qui si può fare la stessa cosa, per esempio, ritagliare tutta questa parte, che non serve, ritagliare anche il disegno. Però, vedete, dopo quando i bambini scrivono molto in basso, succede che si taglia anche, per togliere la parte centrale del quaderno, e allora, in questi casi, conviene togliere tutto il nome e conserviamo solo la parte centrale. La illuminiamo e diciamo che l'effetto è molto, molto migliorato. Ecco qui. Possiamo anche fare in un altro modo. Questi comandi li troviamo anche all'interno di un file di Word. Vi faccio vedere. come funziona. Se io carico su un file di Word, come stiamo facendo adesso per il Padlet, un'immagine, vado su Inserisci, cerco l'immagine che mi serve, che voglio caricare, sul foglio di Word. Vediamo. Allora, prendiamo un disegno che non abbiamo ritoccato, che non abbiamo tagliato. Posso fare la stessa cosa anche qui. Allora, vedete, l'immagine è stata fissata sul foglio. Se io clicco con il mouse sul foglio, l'immagine non è selezionata, ma se io invece clicco con il mouse sull'immagine, l'immagine si seleziona. Si apre questa finestra di dialogo, che si chiama formato, e mi presenta tutte queste opzioni. Per esempio, anche qui troviamo ritaglio. Quindi anche qui, una volta che l'ho caricato sul software Word, posso ritagliare le parti che non mi servono, o che non sono attinenti al disegno, come il supporto. Ecco qua. Oppure, faccio anche in basso, ecco qua, ritagliata. Perfetto. Anche qui posso agire sul colore. Vado sulla luminosità. Vedete? Ho diverse possibilità. Più luminoso, ancora più luminoso, ancora più luminoso. Oppure meno luminoso, ancora meno. Dipende anche dal disegno e dai colori che l'alunno ha utilizzato. Oppure così, oppure così. Anche questo è abbastanza, ecco, rende l'immagine ancora più visibile. oppure posso agire sul contrasto. Ecco, non conviene modificare troppo l'originale, perché può capitare che, una volta effettuate troppe modifiche, poi il disegno non si riconosca più. Però, per esempio, guardate qui, è molto migliorata l'immagine, giusto? Perché il disegno in sé per sé è fatto molto bene, e poi il risultato della foto è quello che noi andiamo a modificare. Il risultato della foto e non il disegno. Ecco, mi sembra che sia abbastanza migliorata. Bene, quindi queste piccole modifiche si possono fare o con il programma di default del sistema operativo che abbiamo sul computer, oppure anche all'interno di Word. Bene, buon divertimento!